E' un piacere essere qui a parlare del futuro del nostro universo e ovviamente è un compito incredibile e che parte però da domande che tutti ci facciamo. Noi ci chiediamo spessissimo che cosa succederà. Sentiamo la necessità di avere previsioni affidabili su ciò che avverrà nel futuro, più o meno lontano. Oggi parleremo di previsioni tipo scientifico che sono particolarmente interessanti perché a differenza di altre previsioni, pensiamo ad esempio alle previsioni degli astrologi, le previsioni scientifiche sono basate su teorie che sono confermate da esperimenti, quindi stiamo parlando di cose che bene o male funzionano, e hanno un grado di affidabilità che può essere calcolato. Cioè uno scienziato onesto non dirà mai succederà l'evento X, quello che dirà è sotto certe ipotesi che io ti dico con una certa probabilità che io ti dico avverrà l'evento X. Quindi mette le mani avanti e dice qui non è che prevedere sia una scienza esatta, è quasi esatta perché quasi esatte sono le nostre misure, tutte le misure che facciamo non sono mai precise fino in fondo. E il bravo scienziato è quello che è capace di tener conto di quanto incerte siano le misure e quindi di conseguenza incerte le previsioni che farà. Ciò nonostante, studiare l'universo è una delle cose più difficili che si possono fare perché l'universo è molto grande, non possiamo contenerlo in un laboratorio, ripetere le misure quante volte vogliamo. Ciò nonostante si possono fare previsioni di tipo scientifico e quindi con una certa affidabilità che possiamo anche stabilire su cosa farà l'universo nel futuro. E stasera vorrei parlarne a tre livelli. A livello del nostro quartiere nell'universo, cioè la Terra, il Sole e il Sistema Solare. A livello della nostra città nell'universo, che è la nostra galassia, e poi a livello dell'universo intero. È stato possibile formulare previsioni per ciascuno di questi ambiti. Quindi come fanno le previsioni gli scienziati? I fisici suppongono di conoscere le leggi della fisica, cioè quelle che descrivono i fenomeni che avvengono, applicarle e quindi fare previsioni sapendo che tutte le volte che agisce una certa forza, ad esempio, nasce una certa accelerazione. che però dipende da quant'è la massa che stiamo spingendo con quella forza. Nel caso dell'universo bisognerà chiederci di che cosa è fatto l'universo, quindi cos'è l'oggetto che vogliamo studiare, quali forze sono in azione su questo oggetto, e una volta sapute queste due cose, se riusciamo a saperle abbastanza precisamente, possiamo usare le leggi della fisica per stabilire che cosa succederà sotto l'azione di queste forze. In breve, l'universo non è un oggetto statico, è un oggetto che evolve e ha cambiato moltissimo durante la sua evoluzione. Sappiamo che miliardi di anni fa l'universo era molto più denso e molto più caldo di adesso. miliardi di anni fa, 13 miliardi di anni fa, non esistevano ancora stelle, pianeti, galassie. Era un grande gas incandescente, in espansione, in raffreddamento. Poi si sono formate stelle, le galassie, e l'universo ha continuato a espandersi e a raffreddarsi. Questo lo sappiamo perché siamo in grado di osservare il passato dell'universo ricevendo la luce che viene da allora. Come facciamo? Guardiamo talmente lontano, con i nostri telescopi, con i nostri strumenti, che riceviamo luce che ha viaggiato per miliardi di anni, portando quindi l'immagine di come era l'universo quando la luce è partita, miliardi di anni fa. E più guardiamo lontano, più impiega la luce, più possiamo esplorare il passato dell'universo. Quindi per quanto riguarda il passato dell'universo siano in grado di fare osservazioni dirette. La luce viaggia molto veloce, ma non è istantanea. Viaggia un miliardo di chilometri all'ora. Eppure ci mette miliardi di anni quando guardiamo gli oggetti più lontani, perché sono veramente molto lontani. Quindi possiamo fare osservazioni diverse, dirette di diverse epoche nel passato dell'universo. Per cui sappiamo che le galassie prima non c'erano, sappiamo che ancora prima l'universo era un gas incandescente, perché abbiamo scattato fotografie di queste diverse epoche portate dalla luce che ci viene da lontano. Per il futuro non possiamo fare questo lavoro. Per il futuro possiamo basarci sul passato, stabilire come è fatto l'universo, quali sono le leggi fisiche che lo regolano, e chiederci che cosa queste leggi prevedono per l'evoluzione futura del sistema. Se abbiamo un sistema fisico semplice, ad esempio un'automobile che corre sull'autostrada, e in questo momento si muove a 100 km all'ora, questo non ci basta per sapere cosa è successo prima e per prevedere cosa succederà dopo. Questa è una discrezione puntuale, istantanea, cinematica, dell'evento automobile che si sposta. In questo momento sta viaggiando a 100 km all'ora in una certa direzione. Se vogliamo sapere cosa sarà in futuro, dobbiamo sapere quali forze agiranno, se il motore continuerà a fornire la stessa forza giusta giusta per fargli compensare gli attriti, allora continuerà ad andare a 100 all'ora, ma se il motore darà più forza, allora la macchina accelererà, se ne darà meno la macchina rallenterà. Per fare previsioni non basta cinematica, ci vuole la dinamica, ci vuole lo studio delle forze e dell'effetto delle forze sul sistema. Lo stesso dobbiamo fare sull'universo. Sull'universo sappiamo che oggi l'universo si sta espandendo, le galassie si allontanano le une dalle altre, continueranno a farlo in futuro, continuerà a raffreddarsi sempre più, finiremo in una morte termica tra miliardi di anni. Questo dipende da come funzionano, quali sono le forze in azione dell'universo e da cosa c'è effettivamente dentro l'universo. E chiedersi che cosa c'è nell'universo è una delle cose più difficili a cui rispondere. Partiamo dal nostro quartierino nell'universo. La Terra e il Sole. Noi viviamo, siamo fortunati, diciamo, viviamo su un pianeta che si trova vicino a una stella media, il Sole. Nella nostra galassia ci sono altri 200 miliardi di stelle. Questa è una stella media e noi ci troviamo alla distanza giusta, 149 milioni di chilometri, da questa stella, perché sulla Terra non faccia né troppo freddo né troppo caldo. Se la Terra fosse più vicina al Sole ci sarebbe un caldo pazzesco. Pensate al pianeta Mercurio, che è molto più vicino al Sole e dalla Terra. È un pianeta in cui non c'è vita, in cui la faccia esposta al Sole è caldissima, la faccia opposta è molto fredda. E non c'è versi, non ci si può sviluppare vita, noi non ci potremmo vivere. Pensate a un pianeta lontano dal Sole, pensate a Saturno, a Nettuno, a Plutone, Plutone non è più pianeta, purello, ma insomma. E sono mondi freddissimi, dove di nuovo non potremmo vivere. Il Sole produce energia. Cosa vuol dire che la produce? In realtà la converte da una forma a un'altra. Questa forma in cui viene convertita energia, energia radiante che si sparge nell'universo, arriva anche a scaldare la Terra. Noi riceviamo al netto della trasmissione atmosferica 700 Watt per metro quadro. Ne riceviamo 1.400 dal Sole per ogni metro quadro, poi a Terra ne arrivano solo 700. E se volessimo potremmo utilizzare per tutti i nostri scopi, qui si apre tutto un altro discorso. Questi 700 Watt per metro quadro sono giusti giusti quelli che tengono la Terra alla temperatura in cui l'acqua può esistere in forma liquida, con tutti gli effetti che questo comporta. Se la Terra fosse nera, perfettamente nera, assorbirebbe tutta la luce che ci arriva. E si può fare un calcolo, non pretendo, l'ho scritto, ma insomma non è quello l'importante. Però vedete che è un calcolo semplice che sta in tre righe e stabilisce che, data la luminosità del Sole, data la distanza della Terra, se la Terra fosse nera si troverebbe a 4 gradi centigradi. Che insomma, è una temperatura abbastanza fredda. Fosse a 100 gradi sotto zero o a 200 gradi sotto zero sarebbe un bel problema. Invece 4 è una temperatura a cui l'acqua è in forma liquida. In realtà la Terra non è un corpo nero, la Terra riflette una gran parte della luce del Sole e quindi se fosse solo questo il problema, cioè la luce del Sole arriva e in parte viene riflessa, avremmo una temperatura della Terra più bassa dei 4 gradi di prima, perché non tutta l'energia che arriva dal Sole viene effettivamente assorbita, parte viene riflessa via e non contribuisce a scaldare la Terra. Se rifacciamo il conto di prima, tenendo presente quanto viene riflesso via dalla Terra, troviamo meno 52 gradi centigradi, un freddo cane. Quello che ci salva e porta la temperatura della Terra a essere abitabile è l'effetto serra. Cioè il fatto che è vero che arriva a una certa radiazione al Sole, è vero che parte viene riflessa via, ma è vero anche che i gas serra che ci sono nell'atmosfera un po' la intrappolano nell'atmosfera, questa qui che se no sarebbe stata riflessa via, e quindi alla fine troviamo una temperatura media, grazie a questa serra naturale che è la nostra atmosfera, che è confortevole e che ha permesso lo sviluppo della vita sulla Terra e anche l'esistenza di noi umani. Vedete che è tutto un bilancio molto critico, cioè ci sono un mucchio di fattori, la distanza è proprio quella giusta, la Terra ha la riflettività giusta, ma ha anche i gas giusti e alla fine si instaurano le condizioni per lo sviluppo della vita. Devo dire che come ho messo il discorso è un po' troppo antropocentrico, cioè in realtà noi non dobbiamo stupirci che qui sulla Terra ci siano esattamente le condizioni giuste per la vita. Il fatto che noi esistiamo richiede che ci siano queste condizioni, quindi non stupiamoci troppo. Quello che possiamo dire è che queste condizioni sono difficili da realizzare in generale e che sui 200 miliardi di stelle che ci sono nella nostra galassia certamente non tutte avranno piateti abitabili. Però, ora vedremo com'è la situazione. Vicino a noi c'è Venere che è più vicino al Sole e infatti è molto caldo, 460 gradi. Non c'è vita su Venere per quanto ne sappiamo. C'è Marte che è più lontano e infatti è più freddo. La Terra è alla distanza giusta. Adesso tutto questo ci dice anche che è un equilibrio molto delicato che si è instaurato in alcuni miliardi di anni durante i quali si è formato il sistema solare, si sono formati i pianeti, la Terra, guarda caso, era nel posto giusto, ma per quanto tempo durerà questa faccenda? Noi ci stiamo chiedendo quale sarà il nostro futuro. Il nostro futuro è legato proprio a queste cose. La luminosità del Sole rimarrà sempre questa? continuerà il Sole a produrre energia in questo modo? Cambierà in futuro? La distanza della Terra al Sole rimarrà sempre quella o no? Continuerremo a orbitare a 149 milioni di chilometri di distanza al Sole? Non è detto. Il sistema solare, se ci fossero solo la Terra e il Sole, sarebbe un sistema fisico semplice, il sistema solare. e quindi si potrebbero fare previsioni a lungo termine. Quando dico lungo dico miliardi di anni, non da qui a domani. In realtà il sistema solare è complicato. C'è la Terra, ci sono altri pianeti, ci sono asteroidi e tutti si perturbano l'uno con l'altro. Gli specialisti dicono che esiste un tempo di circa 50 milioni di anni per il quale le previsioni sono affidabili. 50 milioni di anni è poco. Tra l'altro per i pianeti esterni è poco in termini astronomici, in termini del futuro remoto dell'universo, della storia passata che è stata ai miliardi di anni. Quindi 50 milioni è molto meno di un miliardo. Quindi se vogliamo fare una previsione precisa di cosa succederà tra un miliardi di anni, non ci riusciamo. sono troppe le cose che non sappiamo del nostro semplice sistema solare. Una decina di pianeti, corpi minori, il sole che non è proprio sferico, c'è un mucchio di cose di cui tener conto. In realtà il sistema si dice dal punto di vista matematico un sistema caotico che vuol dire che non si possono fare previsioni a lunghissimo termine. Quindi ecco, vedete, lo scienziato serio non gli basta applicare un certo numero di ipotesi usare la meccanica che conosce benissimo e dire quello continuerà a girare così. No, in realtà se usi bene la meccanica ti rendi conto che le incertezze sulle misure che hai oggi si ripercuotono nel futuro e te non sei capace di prevedere a tempi più lunghi i 50 milioni di anni per il sistema solare. E poi c'è l'altro problema il Sole. Il Sole è una macchina meravigliosa è un reattore nucleare di fusione cosa che noi non siamo ancora riusciti a fare sulla Terra invece sta funzionando da alcuni miliardi di anni nella stella Sole ma continuerà a funzionare sempre così? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci come funziona il Sole com'è che produce questa energia radiante che ci tiene belli calducci? Beh questo è un disegno di come è fatto il Sole al suo interno per quanto ne sappiamo il Sole è una stella è un gas incandescente sono 10 alla 30 chili di gas a temperature che vanno da 6.000 gradi sulla superficie a 10 milioni di gradi nel centro più si va dentro e più è caldo e la produzione di energia o meglio la conversione di energia che produce poi energia radiante che è quella che ci interessa avviene nel nucleo del Sole nelle zone più calde dove 10 milioni di gradi c'è una temperatura molto elevata e quindi questi atomi di gas in realtà non sono più atomi sono ioni gli elettroni sono stati strappati dai nuclei e ci sono sostanzialmente dei protoni che sono i nuclei di idrogeno e poche altre particelle elettroni sicuramente c'è un po' di nuclei di elio quindi dobbiamo immaginarci questo centro nucleo del Sole come un gas di particelle sostanzialmente protoni che si scontrano continuamente uno contro l'altro con grandi energie di scontro allora per stabilire che cosa succede dobbiamo semplificare il sistema il più possibile e pensare a due protoni che per caso stanno andando a collidere cosa avviene supponiamo in un certo istante questi due protoni si muovano verso un punto comune quindi si avvicineranno sempre i più se si avvicinassero molto potremmo avere uno scontro tra due protoni e quando due protoni diventano abbastanza vicini c'è una forza la forza nucleare forte che li tiene attaccati ma devono avvicinarsi tantissimo se succede questo avviene la fusione dei due protoni che diventano un nucleo di deuterio e si libera un po' di energia sotto forma di luce fotoni e di un positrone che anche lui parte per la sua strada questo è il processo di reazione nucleare più semplice che possiamo considerare e è l'unico modo che può spiegare l'enorme quantità di energia che per unità di tempo viene emessa nel sole lo 0,7% della massa iniziale viene convertita in energia radiante sembra poco ma è tantissimo processi chimici come la combustione ad esempio che usiamo nei nostri motori c'è un'efficienza molto peggiore di questa quindi questo è l'unico processo che può avvenire però è interessante notare come questo processo in realtà è vietato cioè quello che succede in realtà è questo la fusione nucleare avviene solo se si avvicinano molto i protoni ma i protoni sono due particelle cariche tutte e due positive e noi sappiamo dall'elettromagnetismo dalla legge di Coulomb che due cariche uguali si respingono quindi inizialmente magari si stavano avvicinando ma più si avvicinano e più la forza repulsiva diventa forte e quindi quando diventano abbastanza vicini cominciano a sentire la forza di Coulomb una forza elettrica che tende a separarli e invece di andare a convergere si avvicineranno un po' ma poi cominceranno a riallontanarsi quindi la questione è quanto riescono ad andare vicini riescono ad entrare talmente vicini entro 10 a 15 metri un femtometro in modo che possa entrare in azione la forza forte che invece è attrattiva e permette la fusione questo è il problema se ragioniamo classicamente questo non succede non può succedere perché i protoni hanno una certa velocità la forza attrattiva li separa e l'unico modo che avremmo per impedirlo è che avesse una velocità molto più grande in modo che il tempo per cui la forza di Coulomb la forza repulsiva agisce sia poco se quelli sono molto veloci la forza agisce per poco tempo e allora si avvicinano parecchio questa è l'unica speranza che abbiamo e noi dobbiamo fare in modo che le velocità siano molto elevate allora si avvicinano la forza di Coulomb agisce ma non ha tempo per agire non devia molto le traiettorie e avviene la fusione perché entrano nel raggio di azione della forza forte quindi la questione è che velocità hanno questi protoni è sufficiente a farli avvicinare abbastanza a far partire poi la forza forte nel centro del sole chi è che dà queste velocità alla particella è semplicemente la temperatura temperatura vuol dire agitazione termica nel centro del sole la temperatura è molto alta 10 milioni di gradi corrisponde a una velocità di circa 10 chilometri al secondo per queste particelle che ci sembra tantissimo non 10 chilometri all'ora 10 chilometri al secondo ma non è abbastanza cioè con questa forza quello che succede è che due protoni non arrivano abbastanza vicini e si riseparano e non avviene la fusione quindi se noi ragioniamo in termini di fisica classica il sole non può funzionare non possono avvenire i fenomeni di fusione nucleare evidentemente stiamo sbagliando qualcosa quello che stiamo sbagliando è applicare la fisica classica a un ambito che è quello delle particelle elementari dove non è la teoria giusta la teoria giusta è la meccanica quantistica che si riduce alla fisica classica nel caso macroscopico ma che nel mondo microscopico fa previsioni molto diverse ma è proprio diversa concettualmente filosoficamente nel mondo microscopico ad esempio uno dei principi fondanti della meccanica quantistica è che non possiamo mai sapere simultaneamente esattamente la velocità e la posizione di una particella quindi quando diciamo questi due protoni partono con una certa velocità non sappiamo esattamente dove stanno al posto di quelle palline rosse dobbiamo immaginarci due distribuzioni di probabilità un po' sfumate che ci dicono sì il protone sta da quella da qualche parte nella sfera rossa ma non so esattamente dove e c'ha quella velocità la sfera rossa ma è una sfera sfumata è più probabile che stia nel centro è meno probabile che stia da una parte ma dove sta esattamente in un istante non lo posso sapere me lo impedisce il principio indeterminazione di Heisenberg è stato verificato in migliaia di esperimenti quindi devo crederci ecco questo però ci dà una soluzione al nostro problema perché se pensiamo a queste sfere di probabilità che si muovono tendendo ad avvicinarsi a un certo punto sarà poco probabile ma può capitare che i due protoni invece che stare al centro delle loro distribuzioni di probabilità siano ai bordi tutti e due quindi i centri delle due sfere non sono entrati nel raggio d'azione della forza forte ma i due protoni che stanno per caso dalla parte giusta sono più vicini e la forza forte li può acchiappare ed aggregare è improbabile però può succedere e quindi su tanti tanti scontri che la maggior parte dei casi si risolvono nella deflessione delle particelle e niente più a volte le due particelle sono così veloci che la forza forse le unisce e avviene la fusione nucleare di cui parlavamo prima cosa è cambiato da prima è cambiato e l'efficienza è molto bassa cioè su un miliardo di scontri solo una volta avviene una fusione nucleare uno su un miliardo è una probabilità bassissima è un caso stranissimo ok però succede la meccanica quantistica ci dice che con bassa probabilità avviene un evento che altrimenti sarebbe pensato impossibile siccome nel sole ci sono tantissimi protoni nel nucleo del sole ce n'è una quantità enorme ogni secondo se ne scontrano moltissimi circa 10 alla 47 che vuol dire un 1 seguito da un gran numero di zeri che ho scritto lì la probabilità è bassa ma invece che 10 alla 47 fusioni nucleari su 10 alla 47 scontri ne ho solo 10 alla 38 ogni secondo che è un numero enorme ecco come nasce l'energia radiante del sole nasce per fenomeni pochissimo probabili ma i tentativi sono così tanti che alla fine viene prodotta un mucchio di energia è il risultato di eventi a bassissima probabilità tanto per capire quanto è improbabile che succeda questo è come fare questo giochino io ho due automobiline che lascio cadere su una pista che ha questo profilo in altezza e lascio cadere dal punto A e dal punto B possono superare quei due picchi e andare a scontrarsi se ragiono elasticamente non c'è il verso cioè al massimo scendono e poi risalgono fino alla stessa altezza a cui ve lo lasciate andare non arriveranno mai nella zona centrale dove c'è questa buca dove potrebbero scontrarsi quelle riarrivano là poi ritornano indietro alla fine si fermano nelle valli ok la meccanica quantistica se noi la applichiamo a questo sistema conferma tutto perché questo è un sistema macroscopico se avessimo invece che macchinine avessimo protoni che fanno questo lavoro la meccanica quantistica ci direbbe guarda che te le lasci andare i due protoni ma quelli possono trovare un tunnel quantistico cioè c'è una piccola probabilità che riescano a passare attraverso la barriera e se passano poi si scontrano quindi è un evento improbabile ma riescono a passare questo fanno i protoni di cui abbiamo parlato i picchi di cui abbiamo parlato sono i picchi della barriera di potenziale colombiana direbbe un fisico la buca è la buca di potenziale della forza forte ci sono i tunnel quantistici nei quali i protoni possono passare e quindi incontrarsi se non fosse così noi non esisteremmo il sole non brillerebbe da più di 4 miliardi di anni questa reazione nucleare di cui vi ho portato parlato è la prima di una serie prima si incontrano due protoni formano un nucleo di deuterio poi un nucleo di deuterio si incontra con un altro protone forma un elio 3 due elio 3 si incontrano formano un elio 4 quindi alla fine i protoni che sono nuclei di idrogeno hanno formato elio il sole brucia idrogeno per formare elio e lo fa da 4 miliardi di anni abbondanti quando noi partiamo con la macchina e col serbatoio pieno bruciamo benzina o gasolio per produrre energia cinetica cioè il movimento è la macchina la benzina o il gasolio si consumano quando finiscono la macchina si ferma allora pensiamo al sole il sole brucia idrogeno forma elio a un certo punto finirà questo idrogeno e il sole smetterà di brillare in realtà la situazione è molto più complicata perché nel momento in cui finirà l'idrogeno in realtà il sole si contrarrà sotto il suo stesso peso non avendo più la pressione delle reazioni nucleari che lo tiene insieme e gli impedisce collassare ma facendo così il nucleo diventerà più caldo e comincerà a bruciare l'elio che nel frattempo si è prodotto e così via in una sequenza di fasi e queste fasi non sono stabilissime da quando ha iniziato a bruciare idrogeno a adesso la luminosità del sole è andata sempre aumentando in futuro aumenterà ancora il che vuol dire che sulla terra farà sempre più caldo arriverà sempre più energia quindi come concludiamo questo lungo discorso mi viene a dire che siamo frutto del caso la probabilità di una parte su un miliardo permette al sole di brillare ci troviamo alla distanza giusta c'è un equilibrio delicatissimo tra fattori contrastanti che permette le condizioni necessarie alla vita non durerà per sempre possiamo chiederci quanto durerà il sole il consumo di idrogeno è iniziato 4 miliardi e mezzo di anni fa a un certo punto finirà si può calcolare che questo succederà tra circa 10 miliardi di anni cioè 10 miliardi di anni dopo l'inizio quindi tra 5 miliardi e mezzo ma i guai per noi cominceranno prima perché il sole sta aumentando la sua luminosità alla fine della combustione dell'idrogeno delle fusioni dell'idrogeno succederà questo questa è una nebulosa planetaria è il risultato dell'esplosione di una stella che ha finito l'idrogeno la stella rimane in parte si collassa comincia a bruciare elio e così via ma è un bello spettacolo al quale non assisteremo perché non assisteremo a questo spettacolo del sole perché tra un miliardo di anni il sole sarà il 10% più luminoso di oggi e questa è una previsione solida il modello che abbiamo del sole funziona benissimo e prevede molto dettagliatamente quale sarà la variazione della luminosità del sole basandosi su leggi fisiche che conosciamo molto bene la fisica nucleare sostanzialmente a energie che conosciamo molto bene perché possiamo sperimentare in laboratorio 10% in più sembra poco ma in realtà è tanto perché instaura un circolo vizioso perché l'aumento dell'illuminazione farà evaporare di più gli oceani si formerà col vapore d'acqua degli oceani più nuvole più effetto serra il che favorirà l'aumento della temperatura e quindi alla fine ci troveremo senza oceani e con un'atmosfera molto densa di nuvole densissime come venere sostanzialmente dove si pensa è un processo simile sia già avvenuto questa non sarà una situazione in cui sarà possibile la vita come pensiamo non ci sia vita su venere ora la luminosità del sole non è l'unico fattore però diciamo che è impossibile prevedere ad esempio se si cambierà l'elitticità dell'orbita della terra a causa delle perturbazioni dovute agli altri pianeti se ci saranno arrivi di grandi meteoriti o eventi destruttivi poi ci sono quelli che ci facciamo per conto nostro disastri ecologici guerre terrorismo supponiamo di fare i bravi nel prossimo miliardo di anni dobbiamo combattere con questo tipo di evoluzione del nostro sistema solare quindi si pensa che forse un giorno saremo in grado di muoverci muovere la razza umana dal pianeta terra e portarla altrove dove ci siano condizioni più favorevoli alla nostra vita potremmo ad esempio pensare di andare su Marte io ho sentito dire negli ultimi anni con impressionante frequenza che la bambina che camminerà su Marte è già nata questa frase che si dice è una frase evocativa sulla quale io non sono d'accordissimo nel senso che è vero che abbiamo la tecnologia per mandare un rover su Marte l'abbiamo fatto queste sono le tipiche immagini del paesaggio marziano prese da una macchina che è andata lì in realtà non sappiamo ancora come proteggere gli astronauti dal viaggio e dalla quantità di radiazioni che assorbiranno durante un viaggio di un anno o più verso Marte un astronauta che va verso Marte se non ha protezioni diverse da quelle che già possiamo fare riceve più o meno la stessa dose che hanno ricevuto a Hiroshima quelli che hanno ricevuto le radiazioni dalla bomba atomica quindi non è molto favorevole l'ambiente da questo punto di vista comunque dobbiamo inventarci qualche sistema furbo è un problema tecnologico non possiamo fare le astronavi rivestite di piombo non abbiamo motori sufficientemente potenti per portare molta massa nello spazio c'è la tecnologia delle vele spaziali che è molto promettente perché permette di accelerare lentamente ma inesorabilmente fino a velocità estremamente elevate nel futuro lontano qui stiamo quasi andando nella fantascienza ma vale la pena parlarne anche Marte diventerà troppo caldo per noi dovremo spostarci altrove stiamo fantasticando di andare intorno ad altre stelle dove sappiamo che esistono altri pianeti intorno ad altre stelle ormai conosciamo molte migliaia di pianeti extrasolari cioè che orbitano intorno a stelle diverse dal sole e anche intorno a queste stelle c'è una zona abitabile che non è troppo vicina troppo calda o troppo lontana troppo fredda dalla stella che consideriamo quindi ovunque c'è una zona abitabile e chi si occupa di pianeti extrasolari ormai ha trovato diversi pianeti questa è un'immagine artistica però questo è un pianeta che è un po' una superterra che si trova a orbitare alla distanza giusta da una stella che si trova a 1200 anni luce da noi quindi la luce per arrivare da qui alla stella o viceversa ci mette 1200 anni noi che andiamo a una velocità che è minuscola rispetto alla velocità della luce impiegheremmo centinaia di migliaia di anni quindi non è molto semplice pensare a come arrivarci i pianeti vicino a una stella vicina a 12 anni luce che comunque è tantissimo in ogni caso sono pianeti estremamente freddi però di stelle nella galassia ce ne sono 200 miliardi si pensa che circa il 20% di queste abbia pianeti abitabili pensate sono tantissimi quindi se riusciremo a svincere queste sfide tecnologiche abbiamo un miliardo di anni di sviluppo potremmo pensare di cambiare con l'ingegneria genetica la nostra fisiologia cioè si può fare di tutto quando uno è disperato fa tutto non lo so cosa riusciremo a fare passerei a questo punto a parlare del futuro non più del nostro pianeta che è minuscolo nell'immensità della nostra galassia ma nella nostra galassia intera le galassie sono bellissime enormi e interagiscono tra loro a volte si scontrano queste due lo stanno per fare queste due lo hanno già fatto noi abbiamo una galassia vicina che si chiama Andromeda vicina per modo di dire due milioni di anni luce quindi e se noi guardiamo il cielo in una notte d'estate in un posto molto buio la vediamo a occhio nudo Andromeda non so quanto riuscite a vedere ma in quell'immagine in alto a sinistra c'è la via Lattea che è quella cosa verticale di stelle che attraversa il cielo e c'è un puntino più luminoso un po' a sinistra e la galassia di Andromeda Andromeda si avvicina a noi e in queste figure qualcuno si è divertito a fare un film dello spettacolo dello scontro tra Andromeda e la nostra galassia visto dal pianeta Terra ci vuol pazienza per assistere a questo spettacolo perché le cifre e i numerini lì sono in miliardi di anni quindi nella foto nella simulazione in alto a destra tra due miliardi di anni vedremo la galassia di Andromeda che si è avvicinata parecchio e infatti la vediamo molto più grande tra 3,75 miliardi di anni ci sta proprio venendo addosso poi c'è lo scontro che non dovete pensare a uno scontro violento perché le stelle sono talmente separate le une dalle altre e semplicemente passeranno una vicino all'altra più o meno come i protoni di cui parlavamo prima deflettendo le loro orbite cambiando la forma della galassia ma non succederà mai che una stella sbatte contro un'altra un evento con probabilità bassissima a forza di cambiare la forma e di unire queste due galassie diventerà una galassia ellittica la nostra bella spirale che è quello che si vede tra 7 miliardi di anni in fondo a destra il bello spettacolo della via lattea sarà completamente modificato e la nostra galassia assomiglierà molto più a una galassia ellittica che a una galassia spirale questo è più o meno il destino della nostra galassia a causa del fatto che la nostra galassia e la sua grande galassia più vicina Andromeda si attirano perché tutte e due hanno massa e in qualche miliardo di anni si uniranno in una grande galassia se vogliamo parlare delle previsioni ancora più a grande scala dobbiamo parlare dell'universo intero l'universo intero è fatto da centinaia di miliardi di galassie e da altra roba e questa altra roba è importante perché in realtà come dicevo prima se voglio sapere cosa succederà all'automobile che in questo momento si sta muovendo a 100 km all'ora devo sapere che forze agiranno in futuro su quell'automobile e quindi quale sarà il movimento risultante e per il nostro universo mi devo chiedere di che cosa è fatto l'universo l'automobile lo so bene com'è fatta ma l'universo e per quanto riguarda invece le forze che agiscono nell'universo sono un po' facilitato perché l'unica forza che agisce a grandi distanze nell'universo noi conosciamo quattro forze fondamentali la gravizzazione la forza elettromagnetica forza forte e forza debole le ultime due già lavorano solo a distanze piccolissime abbiamo visto a forza forte 10 a meno 15 metri quindi per l'universo non ci interessa la forza elettromagnetica agisce solo tra corpi carichi elettricamente e le galassie in media non lo sono rimane solo la forza gravitazionale quindi le galassie si attirano tra loro perché hanno massa hanno una certa velocità attuale che tende a allontanarle le une dalle altre che succede anche qui è un delicato equilibrio tra la gravitazione che tenderebbe a riavvicinarle e la spinta iniziale che le fa allontanare le une dalle altre ma per sapere esattamente cosa succede dobbiamo pensare che non è detto che tutto quello che compone l'universo siano le galassie che vediamo in realtà si è capito che oltre alle stelle che compongono le galassie che vediamo c'è molta altra roba nell'universo quindi quello che si deve fare se si vuole fare una previsione che abbia possibile l'unica cosa che possiamo fare è cercare di semplificare moltissimo il sistema fisico perché l'universo evidentemente è il sistema più fisico più complesso che possiamo studiare ma lo possiamo semplificare se ci accontentiamo di di studiare solo grossolanamente che cosa sarà dove grossolanamente non vuole dire chissà che vuol dire no vuol dire che non ci interessa il destino della singola stella o della singola galassia ma di un grande volume che contiene tante galassie in media questo grande volume continuerà a spandersi oppure no questo ci interessa sapere poi se ci sono volumi più sfortunati in cui qualche galassia si aggrega qualche altro no quello è compito dell'astrofisica la cosmologia si accontenta di sapere in media cosa farà l'universo un po' come quando si studia un gas un gas è fatto da miliardi di miliardi di miliardi di molecole noi non studiamo il movimento di ciascuna delle molecole è impossibile sono troppe noi usiamo delle quantità macroscopiche la temperatura la pressione del gas e ci accontentiamo di sapere se la temperatura aumenterà cioè se le molecole si muoveranno più velocemente ma non vogliamo sapere qual è il movimento di ciascuna delle molecole non ci interessa nemmeno vogliamo sapere se la pressione del gas aumenterà cioè se si scontreranno molto di più oppure no se la densità aumenterà o diminuirà ecco per l'universo cerchiamo di fare una cosa simile la densità dell'universo continuerà a diminuire perché l'universo si espande la temperatura continuerà a diminuire perché si espande e si raffredda oppure no queste sono le domande della cosmologia quindi per capire come funziona l'universo perché evolve dobbiamo guardarne il passato che ci farà capire che cosa è successo e quindi cosa ci deve essere dentro l'universo a quel punto potremmo scrivere delle equazioni della fisica e fare previsioni per il futuro qui c'è uno studio di come sono messe circa 200.000 galassie ogni puntino giallo è una galassia noi ci troviamo al centro tra queste due fette di universo non è tutto universo sono solo due fettine di universo in cui gli scienziati si sono messi lì e con pazienza hanno misurato dove si trovano le galassie e quanto sono distanti da noi e hanno piazzato un puntino giallo in ogni posizione è una specie di spugna di galassie ci sono zone in cui ci sono più galassie dei filamenti di galassie e zone più scure dove c'è meno galassie però questa spugna è la stessa ovunque non guardate i bordi dove non riusciamo a fare le misure ma nelle zone dove facciamo le misure è sempre la stessa spugna cioè statisticamente l'universo è omogeneo è lo stesso ovunque e questa è una ipotesi di semplificazione enorme possiamo studiare il futuro dell'universo in media perché possiamo semplificare il suo studio allo studio di un mezzo omogeneo e isotropo un mezzo semplice che è alla stessa densità ovunque poi in realtà se andiamo nel dettaglio come vediamo nella fotografia ci sono zone un po' più dense un po' meno dense ma in media è sempre lo stesso allora questa densità media di galassie cosa fa nel tempo? aumenta diminuisce quello che vediamo è che diminuisce perché l'universo si sta espandendo e le galassie si allontanano le une dalle altre se scriviamo le equazioni della meccanica con la teoria della gravitazione perché è l'unica forza importante migliore che abbiamo questa teoria è la relatività generale di Albert Einstein e io vi scrivo l'equazione e la scrivo solo perché è bella e elegante non voglio associare nient'altro ma voglio dire che c'è un'equazione che descrive l'andamento della densità dell'universo a patto di sapere cosa a patto di sapere di che cosa è fatto e quali forze agiscono ma quali forze agiscono se già detto solo la gravitazione invece questi simboli omega r0 omega mr0 omega lambda sono quello che permette di scrivere quanta roba c'è di diverso genere nell'universo omega m0 ad esempio è la materia le stelle tutto quello che ha massa omega r0 è la luce le onde elettromagnetiche sono nell'universo omega lambda è una cosa sconvolgente per un fisico perché è una massa energia che non si diluisce con l'espansione Albert Einstein l'aveva scritta solo per aggiungere un termine all'equazione e far tornare le cose a un certo punto disse la peggior asinata che ho mai fatto perché lui il padre della relatività generale aveva scritto questa equazione gli veniva fuori che l'universo doveva espandersi e non gli tornava non c'era verso dice ma come è sempre lì le stelle sono sempre quelle perché deve espandersi poi espandersi è un problema se l'universo è sempre stato uguale non dobbiamo inventarci un inizio una creazione un'evoluzione c'è sempre stato sempre sarà abbiamo risolto il problema un universo che si espande c'è stato un inizio dove tutti erano appiccicati tutti in un punto oppure con densità infinita che c'era prima questo è un grosso problema come andrà a finire e quindi Albert Einstein purtroppo disse beh forse posso aggiungere un termine all'equazione ci metto quell'omegalanda è l'ultimo termine a destra e così aggiusto le cose ma non è così che si fa i vari omega che ci sono lì ci sono perché sappiamo che c'è della radiazione sappiamo che c'è della materia con buona pace di Albert Einstein che dopo aver fatto questa asinata l'ha detto lui non mi permetto di dirlo io l'ha detto lui qualche anno dopo dovette scoprire che l'universo davvero si stava espandendo perché Edwin Hubble aveva visto la recessione delle galassie e dice vabbè ho fatto un'asinata 70 anni dopo 80 anni dopo si scopre che è vero che l'universo si sta espandendo ma si sta espandendo accelerando l'espansione e quindi dobbiamo rimetterci 5 è il fattore omega lambda che è l'unico che permette di accelerare l'espansione dell'universo non sappiamo cos'è ma ci deve stare quindi mi piace far vedere che per quanto ne sappiamo oggi per i presocratici era molto facile 2500 anni fa nell'universo c'era terra acqua aria e fuoco facile oggi la questione è complicata per lo scienziato medio ci sono ancora quattro cose che sono radiazione materia ordinaria materia oscura ed energia oscura queste ultime due in rosso le prime due luce e materia più o meno le conosciamo bene le altre due rosse sono un po' un po' ignote e purtroppo formano la maggior parte dell'universo di materia oscura ce n'è il 22% e di materia ordinaria solo il 4% radiazione pochissima ed energia oscura quell'omegalanda di cui parlavo prima che non sappiamo proprio cos'è ce n'è il 74% quindi non sappiamo cos'è più del 90% dell'universo però sappiamo che c'è e siamo arrivati a queste straordinarie conclusioni grazie a 50 anni più o meno di evoluzione tecnologica delle osservazioni dell'universo che hanno permesso da una parte di osservare l'universo primordiale e di vedere che davvero veniamo da una fase iniziale estremamente calda estremamente delza da un'altra parte a vedere che ci vuole molta più massa di quella delle stelle nelle galassie oltre alla massa normale ci vuole massa oscura altrimenti le galassie che ruotano si sarebbero già disfatte e a vedere che l'universo non solo si espande ma si espande sempre più velocemente quindi ci vuole anche energia oscura adesso voler da questo stato di cose estrapolare il futuro dell'universo è come minimo pretenzioso perché noi non sappiamo la natura fisica del 95% dell'universo è come dire c'è un'automobile di cui so che ci sono quattro sedili ma non so altro cioè so il 5% dell'automobile ma non so l'altro 95% sta andando a 100 km allora adesso che farà in futuro se non so com'è fatta non posso dirlo non posso prevederlo e questo è lo stato delle cose si possono fare ipotesi si può pensare che la materia oscura sia di un certo tipo che l'energia oscura sia di un certo tipo allora sotto queste ipotesi possiamo fare previsioni però sono ipotesi la cosa davvero giusta da fare non è tanto fare grandi ipotesi sul futuro dell'universo poi vi dico cosa dicono ma teniamo ben presente che sono ipotesi ancora un po' campate per aria la cosa giusta da fare sarebbe capire davvero cosa sono materia oscura ed energia oscura allora sì che poi faremo ipotesi che hanno affidabilità previsioni che hanno affidabilità comunque sappiamo che nell'universo c'è materia e qui ci sono foto di varie forme che la materia normale assume polveri gas incandescente nelle stelle gas ancora più caldo che emette raggi X c'è di tutto materia nelle sue diverse forme questa è materia normale gli astrofisici le chiamano barioni vabbè non importa sappiamo che c'è anche materia oscura e lo vediamo da come ruotano le galassie dal fatto che deflettono la luce le grandi galassie molto di più di quanto farebbero se ci fossero solo le stelle sappiamo che c'è energia oscura dall'espansione accelerata dell'universo e alla fine ci viene questa torta della composizione dell'universo se prendiamo per buono che questa è la composizione e che in futuro le cose rimarranno così allora questo è il grafico che prevede cosa farà l'universo nel futuro spieghiamo un po' cosa vuol dire questo grafico vedete che c'è una linea che parte in basso a sinistra all'istante zero e poi aumenta 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 e nel futuro cambia anche curvature e va a aumentare sempre più veloce che è questa linea questa linea ci dice quanto cambiano le distanze a passare al tempo cioè all'inizio le distanze erano piccole i punti dell'universo erano tutti vicini tra loro al passare al tempo quando si passa dal giallo al verde si vede appena appena è la situazione attuale al passare del tempo queste distanze aumentano ancora e lo fanno sempre più velocemente perché questa energia oscura aumenta la velocità di espansione le cose non le sappiamo perfettamente in realtà quindi quello che facciamo in realtà è fare una banda di previsione per cui tra 10 miliardi di anni non sappiamo se le distanze saranno aumentate del 40% o dell'80% però saranno aumentate tanto tra 20 miliardi di anni il margine di incertezza è ancora maggiore e questo è tutto quello che possiamo dire se l'energia oscura continuerà a mantenere le sue proprietà che ha oggi ma siccome non sappiamo cos'è è pretenzioso dire che questo sarà l'evoluzione dell'universo forse sarà così quindi voglio concludere questo lungo discorso dicendo che onestamente noi non sappiamo quale sarà l'evoluzione futura dell'universo ci sono indicazioni ma la cosa che mi piace dire è che non è così importante quello che sappiamo in questo momento ma da una parte cosa abbiamo capito nel tentativo di arrivare a questo grado di conoscenza abbiamo capito che nelle stelle ci sono le reazioni nucleari abbiamo capito che queste hanno una certa probabilità abbiamo capito un mucchio di mondo microscopico abbiamo dimostrato che la meccanica quantistica è vera perché il sole brucia fantastico abbiamo capito che nell'universo ci sono varie forme massa energia e poi ci sono delle indicazioni su dove concentrare le ricerche per fare previsioni più affidabili e questa è la parte importante per il futuro ci potremo ritrovare tra dieci anni con qualcuno che ha capito cos'è davvero l'energia oscura e sarà un passo fondamentale oppure ci vorrà un miliardo di anni chi lo sa comunque questo è lo stato delle cose non sappiamo come andrà a finire il futuro dell'universo ma la descrizione del poco che sappiamo e di come abbiamo fatto ad arrivarci è interessante forse più del risultato grazie grazie mille professore mentre presentavo prima il professore ho dimenticato di citare la sua attività come divulgatore troverete il suo libro all'entrata se poi il professore è disponibile ve lo potrà anche firmare e osservare l'universo ecco sono stato colpevolmente ho colpevolmente dimenticato questa cosa passiamo la parola al pubblico se ci sono domande signori prego senta le volevo chiedere lei ha accennato diverse volte alla meccanica quantistica quindi alla spiegazione di molti fenomeni microscopici dall'altra parte ha accennato anche alla teoria della relatività generale allora le due teorie che sono tutte molto belle e affascinanti però sono in contrapposizione tra di loro perché almeno dal mio punto di vista da una parte c'è uno spazio tempo che è curvo continuo dall'altra parte c'è uno spazio che è piatto e granulare l'ipotesi di probabilità a cui lei ha accennato anche nella relazione da una parte è un'ipotesi fondamentale dall'altra no allora c'è qualche possibilità che lo spazio tempo il campo gravitazionale possa essere quantizzato cioè un'ipotesi di una struttura granulare dello spazio tempo perché allora in questa maniera forse anche il modello standard potrebbe essere completo sicuramente non abbiamo ancora la teoria del tutto che possa unificare la meccanica quantistica e la relatività generale in una sintesi funzionante dove le due teorie non funzionano più e dove non funzionano più è soprattutto l'universo primordiale i primi attimi noi avremmo bisogno tanto bisogno di capire cosa succede prima del tempo di Planck e non c'è nessuna teoria che è stata sviluppata che riesca a spiegarcelo sia la meccanica quantistica sia la relatività generale nel loro ambito funzionano benissimo ma non abbiamo la sintesi nel caso di densità estremamente elevata energia estremamente elevata ci vorrebbe una teoria migliore ci sono molti grandi fisici che stanno provando a elaborare la teoria dell'estringo la sua evoluzione che è questo è proprio questo il tentativo di trovare una teoria che si riduce alla meccanica quantistica si riduce alla modalità generale dove queste due funzionano ma dove non funzionano le unifica però questa teoria non ce l'abbiamo è l'argomento di ricerca della fisica teorica più importante al momento in questa conferenza io non ho parlato molto del big bang e dell'inizio in quell'ambito non possiamo dire molto senza una teoria del genere e riusciamo a descrivere l'universo con ragionevole affidabilità solo dopo il tempo di Planck e per carità è un tempo minuscolo però all'inizio nell'universo le cose vanno molto veloci e prima di allora chissà cosa è successo non abbiamo nessuna teoria che ci permette di dirlo affidabilmente quindi è un problema aperto professore io volevo fare un'osservazione terra terra io parlo molto spesso di biologia e anche dell'origine della vita cioè dell'universo quando nomino la parola caso la gente va in tilt e mi contesta come è successo la settimana scorsa a San Benedetto del Tronto il fatto che io parli di caso con tanta tranquillità ecco tu oggi io non ci avevo pensato mi hai dato un esempio eccezionale a parte il fatto che se non ci fosse l'effetto tunnel non ci sarebbe la radioattività comunque il fatto di ricordarsi che non ci fosse il caso i protoni nel nucleo del sole non si incontrerebbero e quindi il sole si spengerebbe quindi questa gente che pensa di sapere cosa è il caso che è nutrita di filosofia fino alla radice dei capelli deve capire che senza il caso in fisica e in biologia non si fa un accidente però sono sicuro che nonostante tutto storceranno il naso perché il caso è una cosa che non piace era una semplice osservazione beh c'è la famosa frase di che Dio non gioca a dadi no? però ok qualche altra domanda signori? volevo che lei mi chiedisse se è possibile l'altro aspetto diciamo oscuro della questione che è l'antimateria cosa c'entra in questo in quel quadro che lei ci ha appassionato? dunque l'antimateria dal punto di vista dell'equazione di che vi ho fatto vedere è come la materia normale però ha proprietà simmetriche ora il grosso problema cosmologico è perché nell'universo che conosciamo c'è un mucchio di materia e non c'è quasi per niente antimateria perché sappiamo che l'antimateria esiste siamo in grado di generarla negli acceleratori ha proprietà del tutto analoghe a quella della materia anche se simmetriche però nell'universo non c'è o ce n'è una quantità davvero ridicola rispetto a quella della materia questo è un fatto importante perché il modello cosmologico dell'inizio dell'universo è molto democratico e suppone che all'inizio ci fossero quantità sostanzialmente uguali di materia e di antimateria perché no se hanno proprietà così simili seppur simmetriche non c'è motivo di pensare che la materia sia più bella dell'antimateria e quindi all'inizio ci sono energie enormi e continuamente quello che succede è che materia e antimateria si incontrano si annichilano e formano luce radiazione viceversa un quanto di radiazione che passi vicino a un campo abbastanza importante può creare una coppia di materia e antimateria sono tutti modi di trasformare l'energia la massa energia da una forma a un'altra materia può generare materia e antimateria possono generare luce luce può generare materia e antimateria tutto questo funziona finché le energie in gioco sono altissime ad esempio il processo che da un elettrone e un positrone cioè la particella di materia e la sua simmetrica particella di antimateria si incontrano e formano due raggi gamma questo avviene sempre qualunque siano energie in gioco se poi da un raggio gamma vogliamo generare un elettrone e un positrone bisogna che il raggio gamma abbia un'energia pari alla somma delle masse dell'eltrone e del positrone siccome l'universo si espande finché democraticamente avevamo parità di materia e antimateria e raggi gamma tutto andava bene ma l'universo si espande diminuisce l'energia in gioco i raggi gamma diminuiscono la loro energia nell'espansione a un certo punto non sono più in grado di generare dai raggi gamma materia e antimateria elettroni e positroni che vuol dire? vuol dire che continuano gli elettroni e positroni a nichilarsi ma non si torna indietro e se tutto fosse simmetrico assolutamente simmetrico ci ritroveremo alla fine solo con i raggi gamma e tutti gli elettroni e tutti i positroni si sarebbero annichilati non c'è più il processo inverso perché non c'è più abbastanza energia per ciascuno dei fotoni gamma in gioco il nostro universo è fatto così? è fatto solo di luce e non c'è più materia e antimateria? no però è quasi fatto così nel nostro universo per ogni particella di materia ci sono un miliardo di fotoni è come a dire che c'è stata davvero l'annichilazione all'inizio c'erano materia e antimateria invece di non rimanere nulla ogni tanto è rimasto ogni tanto una volta su un miliardo è rimasto una particella di materia e non niente antimateria cioè c'è una piccola modesta violazione della simmetria di queste leggi che regolano l'interazione tra materia e antimateria questo fenomeno fisico questa violazione della simmetria è uno degli argomenti di ricerca della fisica teorica più importanti cioè il nostro universo è quasi fatto solo di luce quasi numericamente e questo è una prova del fatto che all'inizio c'erano davvero il 50% dell'uno e il 50% dell'altro poi il fatto che ci sia stata una lieve a simmetria questo ci dice qualcosa i fisici teorici tutte le volte vedono una lieve a simmetria sono contentissime perché ha un significato profondo sulle leggi della fisica su questo si sta studiando e ci studiò Sakharov ci studiano i fisici di oggi più grandi sul processo detto della bariogenesi cioè come si sono formati pochi barioni residui da materia antimateria da barioni antibarioni quindi l'antimateria è importante nell'universo primordiale era praticamente comune quanto la materia oggi non più perché ci sono state annichilazioni però fortunatamente ogni tanto le annichilazioni non hanno funzionato e c'è questo residuo di un miliardesimo di materia per ogni per un tot di radiazione che siamo noi che sono le stelle che sono i pianeti e così via quindi questa è la visione che abbiamo oggi dell'importanza di materia antimateria nell'universo ci sono altre domande? prego scusate vi prego di essere sintetici che tra un po' c'è anche l'altro appuntamento le volevo chiedere in Francia stanno progettando ITER che è una centrale di fusione nucleare e questo vuol dire che siamo già in grado di creare le tecnologie per mettere in pratica la fusione nucleare oppure questo è ancora tutto da verificare e inoltre quali sono i problemi a cui si va incontro? il problema grosso della fusione nucleare è il problema del contenimento del plasma dove avviene la fusione è un problema enorme tecnologicamente enorme non c'è un problema di fisica fondamentale è un problema tecnologico nel sole non c'è un problema di contenimento sta lì è tutto che si attira l'un con l'altro e forma questa sfera nella quale avvengono le fusioni nucleari noi in voce pretendiamo di creare fusioni nucleari in un ambiente però fuori deve essere bello tranquillo e permetterci di vivere questo è il problema tecnologicamente siamo lontanissimi anche se ITER funzionerà nella sua prima implementazione non produrrà molta più di energia di quella che dobbiamo usare per farlo funzionare non lo farà arrivare a una soluzione del problema della fusione nucleare per risolvere tutti i nostri problemi di energia richiederà molti molti anni ancora certo che se non si comincia con strutture come quella non arriveremo mai quindi è una strada obbligata ma non illudiamoci che ITER risolva i nostri problemi di fame di energia perché ci sarà da fare per decenni ancora dopo ultima domanda buonasera noi sappiamo che a un certo punto 14 miliardi di anni fa è avvenuto il big bang che è un enorme punto interrogativo perché sappiamo che al di là non riusciamo a vedere cioè potrebbero potrebbero essere avvenuti in passato altri big bang potrebbero avvenire in futuro ossia potrebbe esistere una sorta di di super spazio a più dimensioni nel quale magari casualmente si formano gli universi e ogni universo poi potrebbe avere la sua storia a seconda magari delle caratteristiche che possiede sì questa è una possibilità che è stata considerata molte volte che non ci sia un solo universo ma un multiverso e diversi universi in diverse fasi della loro evoluzione quello che noi sappiamo nel nostro piccolo è che il nostro universo continuerà a espandersi se con tutti i sé che ho detto prima se andrà così non ricollasserà su se stesso quindi non avremo un big bang seguito da un big crunch non avremo nemmeno un universo ciclico che per qualche motivo che non sappiamo descrivere fisicamente dopo il big crunch faccia un nuovo big bang e quindi un nuovo ciclo certo è un'ipotesi affascinante ma il mio punto di vista è che uno gli altri universi sono al di fuori dal nostro orizzonte conoscitivo non riusciremo mai a interagirci due non abbiamo le tecnologie intendo i metodi fisici le leggi fisiche che regolano quelle fasi dell'universo e quindi siamo molto limitati e restano ipotesi affascinanti fino a che non avremo i metodi fisici per studiarle con le leggi e la fisica però non le abbiamo è un'ipotesi